Tantissimo per essere rimasti per voi, mi presento ancora una volta i musicisti Lorenzo Livraghi, a stasera Giuseppe Brigandia, al basso Un applauso un po' più forte però, a stossi su Alla batteria, Gioia Dalloni Alla chitarra, Luca Zanconi Alla sax, Davide Ammuzioni Alla voce Alice ragazzi, un applauso Grazie, grazie mille a tutti, grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti